Ciao ragazzi, siete pronti per un viaggio fantastico alla scoperta del mondo e dello spazio? Arrivano le dirette di WeTartle Kids. Ogni venerdì alle 17.30 Federico e Giulia ti aspettano per raccontarti la storia di due astronauti curiosi e di un alieno misterioso. Ci divertiremo con attività di coding, modellazione 3D, robotica, pixel art, storytelling e tanto altro. Genitori, insegnanti, vi presentiamo il nuovo progetto di WeTartle, ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione, dedicato completamente agli studenti dagli 8 ai 13 anni. Un'esperienza divertente ed educativa che stimolerà la curiosità dei ragazzi per la cultura e la scienza e spiegherà loro come usare il digitale in modo sicuro, attivo e divertente. Potete registrarvi gratuitamente al sito di WeTartle Kids per permettere ai ragazzi di interagire direttamente con i formatori. La partecipazione è completamente gratuita, vi aspettiamo!